Grazie Presidente. Gli ultimi due emendamenti, come lei ha correttamente indicato, sono due emendamenti della Commissione Bilancio. Il primo si tratta di un inserimento nel documento unico di programmazione di un'opera nell'allegato che fa riferimento alle opere che non hanno il livello minimo di progettazione per essere inserite nel bilancio di previsione. Si tratta di un'opera, Dipartimento Simu, l'impianto di riscaldamento della scuola di Viale Adriatico per un porto di 600 mila euro dovuta a un finanziamento della Regione Lazio. Attualmente quest'opera non è inserita nella programmazione e nel momento in cui i fondi saranno disponibili con questo emendamento rendiamo possibile poi il trasferimento nel bilancio di previsione e l'assegnazione di questi fondi alla realizzazione dell'opera, cosa che al momento senza questo emendamento non sarebbe possibile. Grazie.